La meccatronica è una scienza trasversale in cui si unisce l'elettronica, la meccanica ed altre discipline che si fondano in armonia per creare qualcosa di nuovo e di utile. Il settore è un settore con un enorme potenziale di sviluppo. Il settore meccatronica è caratterizzato da uno sviluppo continuo e quindi la necessità di volersi mettere in gioco su base semestrale. La libertà di fare quello che si vuole, la creatività di costruire le proprie inclinazioni e il terzo è dar servizio al territorio creando opportunità di lavoro. Impresa o imprendere viene da intraprendere, quindi bisogna essere intraprendenti. Creazione di posti di lavoro, realizzazione personale. È un rischio tutti i giorni, però è un modo di vivere, di approcciarsi e di combattere. Non avere paura di mettersi in gioco e avere molto spirito di sacrificio. Credere nel proprio progetto e bussare a tutte le porte dove si può essere aiutati. Avere coraggio e buttarsi. La giungla Impegnativo Interessante Entusiasmante Come tutte le avventure è affascinante. Oggi fare rete è una delle cose più importanti, questo vale tanto all'esterno quanto all'interno. Si usufruisce di tutti i contatti degli altri BIC che ti stanno intorno. Verre relazioni con altre aziende crea opportunità a prescindere. La presentazione anche perché mediamente i BIC si presentano molto bene con degli uffici attrezzati. La solidità e creare il futuro dell'azienda. È uno degli aspetti più importanti per una piccola ditta come Amy Controls che vuole crescere e farsi strada nel mercato internazionale. Grazie a tutti.